seconda giornata di campionato 7 cup blu team napoli contro la world fit 1 a 0 per il blu team napoli gol di borriello borriello marco lui proprio grande onore di vedere marco borriello tra la compagine napoletana passo la parola al telecronista esperto sergio stanziano è svenuto non vuole parlare è morto blu team sulla destra tengono il pallone ancora nella lunetta del calcio d'angolo il portiere improvvisato detto il modello passa palla al centrale difensivo che scarica verso casolare rilancio lungo cercare walter ottima diagonale vincente del difensore del blu ottima squadra messa su da leonardo polisano ma puntata di sinistro grandissima l'azione dobbiamo dire soprattutto infatti ringrazio subito l'amico che gli serve un assist al bacio 2 a 0 quindi il punteggio aggiornato tra blu team e world fit world fit uscita da una vittoria nella prima giornata anche blu team vittorio pareggio vittoria sì l'arbitro chiamo calcio d'angolo fra world beat world fit si appresta a valter difensore spazza di testa grazie 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 a portiere dario sacchi di esterno tenta la conclusione a sorprendere tutti anche il portiere polisano però che battezza fuori il pallone numero 9 rilancia in attacco a cercare tutto solo l'autore della seconda rete che smisse un pallone che controlla bene casolaro però dopo lo stop interviene bene il blu team subisce il fallo vantaggio tira in maniera un po' scordinata grazie al fallo l'arbitro però dà il vantaggio per il calcio a porta valtero numero si aiuta un po con le mani e giustamente l'arbitro fiscano la punizione perché fin quando il col fisico tutto va bene se mi mettono le mani fa svegli paura valter ci proverà col destro cercano di fare portiere polisano che in due tempi si salva e bocca il pallone il blu team sulla destra sulla fascia destra rientra sul grande gioco di gambe che però fa intercettare al compagno scuola della palla che non era sua ma ancora numero del 6 tiro leggermente alto ci possiamo chiudere qui il collegamento un saluto a tutti leggermente alto ci possiamo chiudere qui il